Gli spazi a vostra disposizione sono a fianco delle colonne, quindi lasciate lo spazio centrale, grazie. Gli spazi a vostra disposizione sono a fianco delle colonne, quindi lasciate lo spazio centrale, grazie a voi. Gli spazi a vostra disposizione sono a fianco delle colonne, quindi lasciate lo spazio centrale, grazie a voi. Ancora a parte spontanea, il vostro applauso. Abbiamo i piccoli già pronti per sfidarsi, piccoli che sono stati già suddivisi in quattro rioni. Si sfideranno tra loro il rione di Sant'Antonio, il rione di San Nicola, il rione di Sant'Andrea e il rione di Sant'Angelo. Allora abbiamo chiamato i capitani di ogni squadra e li andiamo subito a presentare, ci trovo qui davanti a me. Mi raccomando abbiamo il capitano della squadra di San Nicola, facciamo un applauso alla squadra di San Nicola. Dov'è la tua squadra? Fatemi vedere. Fate il tifo, squadra di San Nicola, fatemi vedere. Ho detto fare il tifo, veloci. Fate il tifo, gridate, San Nicola. Benissimo. Qui abbiamo invece il capitano della squadra di... Sant'Angelo. Dov'è la squadra di Sant'Angelo? Eccola lì, la squadra di Sant'Angelo. Abbiamo invece il capitano della squadra di... Ma bella, che è scelto? Sant'Andrea, che è? Sant'Andrea, che cos'è? Tu scegli Sant'Andrea, ok. Il capitano della squadra di Sant'Andrea è lui, dove la squadra si dì? Sant'Andrea. Qual è la squadra tua? Eccola lì. Ti è rimasta la squadra di... Che è rimasta? E' rimasta Sant'Antonio, a po', ti piace? Ok. Lui è il capitano della squadra di Sant'Antonio. Dove è la squadra di Sant'Antonio? Stanno tutti là, tutti senti là. Ok, il primo gioco che andremo a fare è la corsa con il sacco. Intanto i più piccoli, i più piccoli se si vogliono accomodare qui. Facciamoli sedere da questa parte. I più piccoli rimangono solamente i più grandi. Allora, andate dalle vostre squadre che vi spiego subito. Andate dalle vostre squadre. Andate dalle vostre squadre. Vi spiego subito com'è. Si svolgerà il primo gioco. Mi raccomando mamme, fatemi dire il tipo per i vostri figlioli. Vi infilerete all'interno di questo sacco. Al mio 3 si parte. Dovete raggiungere questa striscia. Quando arrivate alla striscia vi girate, ritornate indietro, vi togliete il sacco e lo date al vostro compagno che sarà lì ad aspettarvi. Il vostro compagno ricevuto il sacco lo infila e fa lo stesso percorso. Vince chi arriva prima al traguardo. Naturalmente dovete arrivare tutti quanti. È una staffetta, la staffetta della corsa del sacco. Queste indicazioni vanno anche per gli adulti. Quindi se avete ascoltato, questo regolamento varrà anche per voi. Allora intanto stanno indossando il sacco. Ricordiamo la prima squadra che è presente, diciamo vicino al tavolino, è la squadra di San Nicola. Capeggiata da, come si chiama, Antonello. Ok, prima squadra la squadra di Antonello, San Nicola. Seconda squadra la squadra di Sant'Angelo, capeggiata da Enrico. Terza squadra Sant'Antonio, capeggiata da Nicola. Quarta squadra era Sant'Andrea, capeggiata da Giovanni Pio, se non ricordo male. Sì, ok. Allora, bambini, siete pronti per sfidarvi? Signori, naturalmente se gentilmente spostate scappuccetto rosso, se arriva no, arriva il gruppo e so guai. Signori, se gentilmente potete andare un poco più indietro, perché vedete c'è Giovanni Pio che sta sulla vostra rotta. Allora, avete capito, bambini? Sono stato chiaro, dovete raggiungere questa striscia. Vi girate, tornate indietro, vi togliete il sacco e lo date alla persona della vostra squadra, che è già pronta. Quindi staffetta della corsa del sacco. Siamo pronti? Al mio tre si parte, ma le grazie, siamo pronti? Signori, vogliamo fare un applauso di incoraggiamento a questi bambini che si sfideranno, la sfida tra i rioni. Secondo palio, in onore di Sant'Agata, voluto l'anno scorso dall'Associazione Sant'Agatesi del Mondo e portata in auge ancora anche quest'anno, grazie al contributo dell'amministrazione comunale. Allora, al mio tre, Maria Grazia, mi dai l'ok? Non stai? Sparita, Maria Grazia, si è mimetizzata tra i bambini, eccolo lì. E amico, fate attenzione. Al mio tre, togliete il cavaliere mascherato lì. Pronti? Uno! Ho detto uno, Nicola! Uno! Due! Tre via! Ed eccoli qua, in vantaggio abbiamo San Nicola, San Nicola che conduce, giratevi e tornate dietro. Vai Giovanni Pio e Sant'Antonio. Veloci, 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 veloci. Toglietemi il sacco, datelo pronti all'altro concorrente. Si parte, si parte subito. Ecco, è partito già. San Nicola, seguito da Sant'Angelo. Sant'Antonio, eh. Vai Giulia, vai Giulia. Giro. Intanto, qualche problema per Sant'Andrea. Vai, vai, vai. Facciamo un applauso a questi bambini, facciamo il tifo. Dai, dai, che ce lo facciamo, dai, dai, che ce lo facciamo. Avvisatemi quando stanno per finire, non sto capendo a finire. Pronti, pronti, pronti. Alziamoci e ripartiamo. Dovete raggiungere la striscia, dovete raggiungere la striscia. Vai Viviana, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Maria Grazia, mi fai segno tu quando non è finito. Chi arriva per primo. Sono finiti. Ma lì sono finiti già. Alla lasciate. Nei sacchi nessuno vuole. No, è dall'altra squadra, Maria Grazia. Signori, glielo facciamo con un applauso a questi bambini. Non vi sento. Pubblico di Sant'Agata. Su queste mani. Rialziamoci, rialziamoci. Voi, Leonardo, vai. Vai, vai, forza, 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 Leonardo. L'importante della vita è rialzarsi sempre, Leonardo, vai. Forza, Denise. Complimenti, Leonardo, stai pulendo la piazza. Vai, vai, che ce la facciamo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. C'è qualcuno che sta controllando lì in fondo, se ci sono ancora dei concorrenti. Ancora tre concorrenti per squadra. Ancora tre concorrenti per squadra. Vai, Francesco, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Forza, Sergio. Ancora due, due bambini per quella squadra che non sappiamo... Ecco, il cappello va tolto. Forza, bambini. Forza. Forza, bambini. Forza, bambini. Forza. Forza, bambini. Eccoli là Eccoli là Abbiamo il vincitore Maria Grazia Il vincitore di questa prova Intanto stanno sfilando le altre E' la squadra di San Nicola Facciamo la sfilata Fino a qui di squadra di San Nicola Una dietro l'altra Raggiungeteci che vi prendete L'applauso della platea di Sant'Agata Ecco la squadra di San Nicola Più forte quest'applauso gente Giro Certi che però come applauso Non è Forza le mani Però non finisce qui Perché loro hanno vinto solamente una prova Adesso c'è la famosa famigerata Tiro alla fine Vi raccomando Scaldate i muscoli I bambini vi vogliamo più forti che mai Allora due squadre A la volta Voi Per le mani Per le mani Per le mani Fino di chiempion Per le mani Chi Sì, eccoli qua i nostri atleti, i nostri forzuti atleti. Allora la prima sfida è tra il Vione, San Nicola contro Sant'Antonio contro Sant'Antonio, Sant'Andrea. Su tre prove, tre prove, faremo ogni tiro. Signore, accompagniamo con le mani questi bambini, fatemi sentire, mani, 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 calore, Sant'Agata. Allora, allora, siccome che qui abbiamo problemi di spazio, dobbiamo spostarci più in là, più in là, più in là, più in là. Dobbiamo andare oltre la lampada, piccola, 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 piccola. Ok, più in là, più in là, più in là. Vi raccomando gli altri non toccate la corda, sono dei bambini, bisogna far vincere loro. Il regolamento del tiro alla fune vince la squadra che avrà tirato l'altra completamente oltre la striscia di mezzeria. Quindi, voi vincerete nel momento in cui Morena sarà arrivata qui. Caso contrario, vincerete voi nel momento in cui, come ti chiami tu, Rosanna, sarà, Rosaria, sarà arrivata oltre questa linea. Tre prove avete a disposizione per questa manescia, per questo round. Siamo pronti? Al mio tre, cominciate a tirare. Uno! Ma le grazie a spostati, se no quelli ti fanno... Uno! Andate un pochino, più in qua, più in qua, sono andato a finire solo la lampada. Più in qua, più in qua, più da questa parte, spostatevi tutti da questa parte, spostatevi da questa parte, spostatevi. Sant'Antonio contro Sant'Andrea, è così. C'è una last script. Sant'Antonio contro Sant'Andrea. Tre, due, uno, via! Tirate forte, tirate forte. Ecco la squadra di Sant'Andrea. Sant'Andrea ha preso il sopravvento su Sant'Antonio. No, no! Ce l'hanno fatta, ce l'hanno fatta, primo mani. Signore, avete visto? È difficile. Se gentilmente andate più indietro, dovete tirare da quella parte, non ve ne venite sulle lampade. Spostatevi da quella parte. Allora, primo mani su a favore di Sant'Andrea. Sant'Andrea, fatemi un applauso. Sant'Antonio siete buoni? Vabbè, Sant'Antonio. Gentilmente, più da quella parte. Ecco! Due, tre! E sta ancora in vantaggio. In vantaggio ancora Sant'Andrea. Sant'Andrea ce la fa, Sant'Andrea ce la fa. Ce la fa Sant'Andrea. Ce la fa Sant'Andrea. Fammi segno, Maria, grazie. Fammi segno, ci sono quasi, ci sono quasi. E vince Sant'Andrea! Allora, Sant'Andrea al momento. È la squadra finalista. Le altre due squadre. C'è Sant'Angelo, Sant'Angelo, Sant'Nicola. Prima finalista, Sant'Andrea. Sant'Antonio è più di qua. Ricordiamo un attimo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Per quanto siete? Sant'Angelo. Undici. Allora, Almio tre, siete pronti per... Fate spazio lì dietro, fate spazio. Tu devi tirare di qua. Giri, no, ti giri così. Ok. Siamo pronti, Ammo, vuoi essere tirata anche tu, Ammo, eh, sì. Anmo, tre, pronti? Uno, due, tre! Ecco Sant'Angelo che si sta tirando dietro San Nicola. La grinda di Sant'Angelo. Vai San Nicola, vai San Nicola! Vai San Nicola, vai San Nicola ancora! Vai San Nicola! Eccoli con la fine, 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 fine. Un applauso a Sant'Angelo. Prima match in un win. In favore di Sant'Angelo. Ritornate al posto, ritornate al posto. Ritornate al posto che facciamo subito la rivincita. Ci siamo? Uno! Gentilmente, signori spettatori, non ci passate davanti ai bambini. Lasciateli liberi, allargateli, fateli respirare. Uno, due, tre! E a parte di nuovo la forza di Sant'Angelo contro quella di San Nicola. Sant'Angelo! Un'altra volta in vantaggio. Vai ragazzi, forza San Nicola! Ma non c'è nulla da fare, sono più forti, sono più forti. Ce la faranno, ce la faranno. Fine, fine, fine! Sant'Angelo, due winner! Facciamo un applauso ai bambini di Sant'Angelo. La finale, Sant'Angelo contro Sant'Antonio. Quello che si stavano attento. Un urlo di carica per la squadra di Sant'Andrea. Un urlo di carica per la squadra di Sant'Angelo. Sant'Andrea! Al mio bestie parte! Che dico più di qua. Uno, due, tre! Ecco la grinda di Sant'Andrea. Sant'Andrea ce la fa, ce la fa. Forza ragazzi! Forza Sant'Andrea! Forza Sant'Angelo! E' un pari, un pari! Ci hanno la stessa grinda, ma adesso sta prendendo il sopravvento. Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza! E la prima manche da Sant'Angelo! Vieni qua! Pronti già per la seconda manche? Pronti già per la seconda manche? Non tirate, non tirate, dovete raggiungere il centro che stava qui una volta. 12, 12 e 13. Lei gioca? 12. Allora, uno. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Ancora un concorrente qui? Ne manca uno qua. Ne manca uno qua. Tu! Ok. Gentilmente, tutti gli altri che non fanno parte del tiro alla fune, spostatevi. Sono dei bambini, se già a queste età gli vogliamo inculcare l'imbroglio, abbiamo fatto 13. c'è tempo per fare gli imbroglioni. Alle tre, uno, due, tre, via! E' questa volta più determinata la squadra di Sant'Andrea. Forza ragazzi, forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza Sant'Angelo che possiamo recuperare! Forza Sant'Angelo che possiamo recuperare! Forza ragazzi! Forza ragazzi! E un applauso a Sant'Andrea! Hanno pareggiato, hanno pareggiato! Finale, finale, abbiamo la finale! Ritornate alle vostre postazioni su lungo la corda. Solo uno, solo un rione sarà il vincitore di questo tiro alla fune. In questo momento le squadre abbastanza equilibrate, Sant'Angelo, prima manche, Sant'Atrea, seconda manche, finalissima. Ricoppiamo i concorrenti. 12 contro 12, numero perfetto. Facciamo un applauso, facciamo un applauso per questi bambini. Uno, due, allontanatevi, allontanatevi. Uno, due, tre! Sfida l'ultimo sangue! E' un vantaggio al momento, Sant'Angelo! Forza, ragazzi, di Sant'Angelo! Forza, ragazzi, di Sant'Angelo! Sant'Angelo è in recupero! Forza! Sant'Atrea in vantaggio! Sant'Atrea in vantaggio! Mai che ce l'avete così fatta! Anima, è finale! Facciamo un applauso alla squadra vincitrice del tiro alla fune. Ragazzi, i campioni sono la squadra di Sant'Angelo! Facciamo fare la sfilata anche alla squadra di Sant'Andrea. Ragazzi, uno dietro l'altro. Facciamo la sfilata alla squadra di Sant'Andrea. Fatevi un applauso! Ragazzi, sportivamente, la squadra di Sant'Angelo, sportivamente, date una mano ai vostri avversari. Sant'Angelo e Sant'Andrea, vi stringete la mano. Sant'Angelo e Sant'Andrea, vi stringete la mano. Facciamo un applauso a questi bambini. Allora, bene, ragazzi, per voi ci sarà un premio. Per tutti i partecipanti a questi giochi ci sarà un premio. Andate da Maria Grazia, poi in sera a lei, a premiarvi. Grazie per aver partecipato a questa manifestazione. Intanto si preparino le squadre degli adulti. Grazie a tutti. Per esempio. Grazie a tutti. 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 Andiamo con il rione di San Nicola. Torra Laneto. Di Giorgio Salvatore. Domenico Argentieri. Ci siete? Domenico con vedo? Domenico? Antonio Russo e Pasquale Chirico. Ci sono? Ci sono? Ci sono? Ripeto, il rione di San Nicola, Dona Laneto, Di Giorgio Salvatore, Domenico Argentieri, Antonio Russo e Pasquale Chirico. Le squadre, mi raccomando, non appena come siete stati chiamati, vi mettete insieme. Adesso c'è? Adesso c'è Rione di Sant'Andrea, Antonella Scopece, Michele Ciciretti, Michele Ciciretti c'è? Puoi venire verso di noi, grazie. Vito Granato, Tonino Leva e Lacri. Li hanno due cuota e rosa, questi ragazzi. Rione Sant'Andrea. Per favore, come vi chiamiamo venite, se no non incominciare più. Rione Sant'Angelo. Maria Chirico. Peppino Maruotti. Filomena Maruotti. Vai, Deliceto. Bravo. Pompea Chirico. E Barbato Francesco. Allora, la prima gara, il primo gioco che andremo a fare è la corsa con il sacco. Allora, dividiamo le squadre, come abbiamo fatto tipo il tir alla fune. Due squadre, due rioni alla volta. Sono stati come i bambini, sono stati più bravi bambini che quei grandi. Forza? Tu sai come... Torra Loreto, salvandone di Giorgio, ma domenico Argentieri, Antonio Russo e Pasquale Chirico, con dottora che indossa il sacco. Sant'Antonio deve essere Michele Loviello. L'ultimo della squadra di San Nicola deve essere Pasquale Chirico. Quindi vi do l'ordine di come vi dovete sistemare. Sant'Antonio abbiamo Barbara, Pasquale Lorusso al secondo posto, terzo posto Antonio Maruotti, quarto posto Michele Cavaliere, quinto posto Michele Loviello. Per la squadra di San Nicola, dopo Dora, viene Salvatore Di Giorgio, dopo Salvatore Domenico Argentieri, dopo Antonio Russo, in ultimo Pasquale Chirico. La striscia è questa, no? Lascia stare là, c'entro, lascia stare, non serve, c'entro. Se non arrivate alla striscia, se girate prima, dovete ritornare indietro e ricominciare. Chi vi fa da... Antone, tu su, Gareggi, no? Tu Gareggi. Quanto? Allora ragazze, gentilmente potete prendere questi bambini. Qua è seria la cosa, eh? Siamo pronte, Barbara, ancora siamo pronte? Fatemi sentire un urlo a San Antonio. L'urlo a San Nicola. Che cagata tutti e tre. Pronti? Uno, due, tre! Ed ecco, lo sono quasi al pari, sia ad ora che Barbara, brava, brava, brava. In vantaggio alla squadra di San... Nicola, se non sbaglio. Forza ragazzi, San Nicola è partita di nuovo. A più non posso. Eccoli qua. Vai, vai ragazzi. Veloce, veloce il cambio da d'ambito. San Nicola ancora in vantaggio. Vai ancora. San Nicola, bene. Abbiamo oltrepassato la striscia. Al momento abbiamo San Nicola in vantaggio. Vediamo Antonio Lusso contro Michele Cavaliere. Ancora San Nicola in vantaggio. Ha recuperato Santo Antonio. Gli ultimi, sono gli ultimi. Vediamo, vediamo chi l'avrà vinta. Parte Santo Antonio. Siamo in vantaggio, forza, Santo Antonio. Vince, Santo Antonio. Bravi, bravi complimenti alla squadra di San... San Nicola. Eh, vabbè, dà. Allora, voi siete in finale. Sant'Antonio, San Nicola è in finale. Si prepari la squadra di Sant'Andrea e la squadra di Sant'Angelo. Allora, abbiamo una squadra. Voi ne siete quattro, no? Allora. Antonella Scopece, Michele Ciciretti, Vito Granato, Tonino Leva, Lacre. L'ordine è quello che vi ho detto. Mentre per Sant'Angelo, Maria Chirico, Giuseppe Di Giorgio, Filomeno Maruotti, Poppea Chirico, Francesco Barbato. Ci sei che che manca? Giuseppe Di Giorgio. Dov'è Giuseppe Di Giorgio? Andate a consegnare l'anatra a qualcuno? Giuseppe Di Giorgio? Se no, lo sostituiamo, eh. Spazio. Vi ripeto, anche per voi, se non oltrepassate la linea, dovete ritornare indietro e ricominciare il percorso. Voglio un urlo, la squadra di Sant'Andrea. Un urlo, la squadra di Sant'Angelo. A me o presti parte. Pronti? Uno, due, tre. Ed ecco la parte subito Scopece. Ma superata. Vai Maria, vai Maria. Maria, 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 Maria ricomincia, Maria ricomincia. Non hai oltrepassata la linea, Maria devi ricominciare. Vai in fondo e ricomincia, Maria vai in fondo e ricomincia. Vai, 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 vai. La squadra di, intanto la squadra di Sant'Andrea. La squadra di Sant'Andrea è in vantaggio per una disattenzione della concorrente chimico della squadra di Sant'Angelo. Vai Vito, vai Vito. Vai Vito. Prenditela con calma, Vito. Se gli profrite per qualche cosa. Vai Giuseppe, Giuseppe sta recuperando. Sembra un toro. Vai Giuseppe, vai, vai, vai Giuseppe. È il turno di Filomena per la squadra di Sant'Angelo. Vediamo se ricominciare con calma. Intanto la squadra di Sant'Andrea è ancora in vantaggio di un giro. Filomena, alza, va. Filomena, con calma, non ci sappiamo tempo. Vai Filomena, vai. Magri, puoi andare pure a vedere la bambina che fa. Eh, tranquilla. Vai, vai, tranquilla, vai, vai. Sì, l'ultima. Sì, l'agri è l'ultima. Con calma. Ma lì, fate, ma lì. Pompea, fate un giro, Pompea. Ragazzi, un applauso alla squadra di Sant'Andrea. Fa niente, fa niente, dai. Allora, finale, finale. Abbiamo la squadra di Sant'Andrea contro la squadra di Sant'Antonio. Si prepari la squadra di Sant'Antonio, di nuovo capeggiato da Barbara De Leo. Al secondo posto Pasquale Lorusso, terzo Antonio Maruotti, quarto Michele Cavaliere, quinto Michele Noviello. Mentre la squadra di Sant'Andrea capeggiata da Antonella Scopece. Secondo Michele Ciciretti, terzo Vito Granato, quarto Tonino Leva, quinta Lacri. Intanto spostate i bambini, grazie. Grazie. Le vuote rosa si affrontano alla prima manche. Allora, se siamo pronte ragazze, fate spazio. Fate spazio. Abbiamo Sant'Andrea contro Sant'Antonio. Ragazze, al mio pre, fate spostare. Spostate i bambini, spostate i bambini. Mi raccomando, arrivate alla linea. Avete visto cosa è successo a Maria? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Sant'Antonio è in vantaggio, gira di Boa per Sant'Antonio, che al momento è in vantaggio. Antonella saltellando fino all'ultimo. Stanno perdendo, parte in vantaggio questa volta Sant'Andrea. Vai, 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 vai. Vediamo, vediamo Sant'Andrea, l'ultimo sangue, Sant'Antonio. Intanto ha recuperato Sant'Antonio. Vai, vai, Sant'Antonio al momento è in vantaggio. Sant'Antonio in vantaggio. Sant'Antonio in vantaggio, l'ultimo concorrente per Sant'Antonio. Michele Noviello sta prendendo. E intanto anche l'ultimo concorrente per parte Sant'Andrea. Parte Sant'Andrea. Vai, Lacri. Vai, Lacri. Vai, Lacri. No, no, è da rifare, è da rifare. L'Acri dovevi saltare fino alla fine, è da rifare. È da rifare, è da rifare. Partite di nuovo, partite di nuovo. Allora, Lacri torna indietro. Fate la finale voi due. Uno, due, tre. Squadra di Sant'Antonio. Squadra di Sant'Antonio. gentilmente è Maria Grazia che si è presa la penna. Dovevi rassegnare qua? Seconda prova. Seconda prova. La corsa. Staffetta con l'uovo. Con Barbara Deleo, Pasquale Lorusso, Antonio Varotti, Michele Cavaliere, Michele Noviello. Mentre la squadra di San Nicola, Lora Loreto, Salvatore Di Giorgio, Marco Domenico, Argentieri, Antonio Russo e Pasquale Chirico. Pasquale Lorusso, Antonio Varotti, Michele Cavaliere, Michele Noviello. Per quanto riguarda San Nicola, Dora Loreto, Salvatore Di Giorgio, Domenico, Argentieri, Antonio Russo, Pasquale Chirico. Finalissima per quanto riguarda il gioco della corsa con il sacco. Eccolo! Eccolo! Il gioco di San Nicola, il gioco di San Nicola, con il gioco di San Antonio. Barbara Deleo, Pasquale Lorusso, Antonio Varotti, Michele Cavaliere, Michele Vello. Per la squadra di San Antonio, per la squadra di San Nicola, Dora Loreto, Salvatore Di Giorgio, Domenico, Argentieri, Antonio Russo e Pasquale Chirico. Prima a nascere l'attività di Puneo, Pasquale, Michele Cavaliere, 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 Michele Vello. Pronti? Uno, due, tre, via! Pronti? Uno, due, tre. 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 Ragazzi c'è la vostra seconda mancia San Nicola che siete qui San Nicola Seconda mancia Per fine Pasqua Seconda Spostatevi dietro Spostatevi dietro Allora ripiatevi dietro Uno Due Tre Via A Stare 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 Noi, 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 noi Noi, 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 noi Noi, 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 noi Noi, no, 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 no ci sono i passi ancora un nuovo problema ancora una donna e la ragazza di borsa è passato è passato Dan di cola sono i primi che hanno vinto questa manche seconda manche vediamo si resta a fare andogno russa 2 3 via vai c'è la città 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 un metro a disposizione per la vostra interna è la città è la città è la città è la città è il peggio all'ultimo santo l'ultimo astizio se è vola ci stanno già tutti 1,2,3,4 4,4,4,4,4 un po' è la città vieni la città vieni la città vieni la città 5 secondi qua 3 e 5 secondi qua ragazzi siamo pronti 1,2,3 vai, vai vai forza ragazzi questa è la finale la finalissima è la finale di la visione secondo Mario di Santagana a Vieni 7 6 secondi qua e no non è la città 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 e no c'erano altre che ti davano fermi se è stato vicino evitante che di aiutare ti sono fatto così è legato facciamo anche il calvario e non è la città andiamo alle grazie facciamo i canapni e ma avrai chi cazzo broglie lirico vai vai sempre tu sei lito tu non so mi dà qui ti riteni qui andiamo a te 10 metri mi sarà vicino non toccate la città 1 2 3 ci siamo quasi ci siamo quasi ancora un metro ancora un metro e con i quali i vincitori sono un tema scopisce Michele Ciciretti vinto granario viene consegnato ad Antonella Scopece come rappresentante della squadra di Sant'Andrea facciamogli un applauso intanto consegnate anche le medaglie ricordiamo che oltre alla coppa c'è un buono da 50 euro da consumare presso i ristoranti di Sant'Agata seconda classificata la squadra di San Nicola e chiamiamo Nora Loreto Salvatore Di Giorgio Domenico Argentieri Antonio Russo e Pasquale Chirico anche per voi ragazzi c'è un buono di euro 50 da consumare presso i ristoranti di Sant'Agata e la consegna da parte dell'assessore Ciciretti a Dora Loreto la rappresentante della squadra l'applauso per la squadra di San Nicola ad ex equo terzo e quarto classificati la squadra di Sant'Antonio che chiamiamo qui Barbara De Leo Lorusso Pasquale Antonio Maruotti Michele Cavaliere Michele Noviello abbiamo già consumato noi eh allora la squadra di Sant'Antonio Barbara De Leo Pasquale Lorusso Antonio Maruotti Michele Cavaliere e Michele Noviello e in ex equo la squadra di Sant'Angelo Maria Chirico Giuseppe Di Giorgio Filomena Maruotti Pompea Chirico e Francesco Barbato Maria Grazia dietro di te benissimo ragazzi un ringraziamento a tutti quanti voi che avete partecipato a questo secondo palio in onore di Sant'Agata ringraziamo l'amministrazione comunale che ha voluto e sponsorizzato questa manifestazione ha offerto i premi ringraziamo tutte le altre associazioni di Sant'Agata grazie a tutti ancora ragazzi l'appuntamento è per il prossimo anno terzo palio in onore di Sant'Agata grazie ancora a voi tutti alla prossima